Ciao a tutti, sono Mabocco88, eccoci qua con l'ultima recensione della Mystery Box dall'Inghilterra Sunset Shimmer, Equestria Girls, Rainbow Rocks L'ho pagata 25€ e direi che è un prezzo abbastanza buono perché in Italia si troverebbe a molto di più penso, o comunque di solito costavano tanto e poi questa è la versione fashion o qualcosa, non mi ricordo più bene come si chiama e quindi visto che è una versione deluxe tipo viene di sicuro di più della bambola nella confezione più piccola singola nel senso senza accessori quindi vediamo un po' la scatola come al solito, ormai penso che la sappiano anche i muri le scatole delle bambole Rainbow Rocks e queste Girls Rainbow Rocks hanno questo ferro di cavallo a forma di cuore l'arco ballenato qui c'è il nome della bambola che ovviamente è Sunset Shimmer qui abbiamo il solito artwork che è il viso di Sunset Shimmer e la sua versione pony è consigliato da 5 anni in su il logo dell'Asbro e vabbè il logo Rainbow Rocks e il logo My Little Pony e queste Girls qui cosa c'è scritto I love to rock out chissà perché in francese c'è Adore Dancer che non c'entra la mazza comunque mi piace fare mi piace fare rock mi piace roccheggiare e fine qui c'è il poster che dice aiuto battle of the bands e qui abbiamo un artwork della figura intera di Sunset Shimmer che con questi capelli non sembra per niente Sunset Shimmer comunque purtroppo questo è l'artwork che hanno messo sulla scatola e qui cosa c'è scritto la magia dell'amicizia non cambia mai ma se non mi sbaglio questa frase c'è su tutte le scatole quindi ormai la sappiamo a memoria e ovviamente Sunset Shimmer e qui è il mio stile rock risalta tra la massa yeah oh yeah non mi cascare vabbè il solito logo di queste girls i bini mi sembra che per la scatola siamo abbiamo detto tutto anche perché ormai non è la prima bambola di queste girls Rainbow Rocks che recensisco quindi penso che vi siate anche un po' rotte le scatole sempre bla 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 ecco quindi passiamo all'apertura eccoci qua con Sunset Shimmer fuori dalla scatola parliamo un attimo degli accessori o comunque delle cose che arrivano insieme a lei così poi ci focalizziamo sulla bambola come al solito in tutte le bambole di queste girls arriva la bambola arriva con questa cartina con l'artwork della metà faccia di solito nelle bambole americhe cioè quelle americhe che ho comprato dall'america qui c'è scritto backstage pass non capisco perché in questa inglese britannica non ci sia più scritto con queste carte questi questi piccoli cartoncini che molti pensano che non servano a un bel niente sono i loro backstage pass e quindi io li ho sempre collezionati li ho sempre tenuti non li ho mai buttati via e quindi andrà a fare compagnia agli altri parlando velocemente Sunset Shimmer essendo la sua versione fashion arriva mi pare che si chiami fashion no no non me lo ricordo il preciso non mi volete male arriva con un altro abitino che però non la spoglierò abbiate pazienza arriva con quest'altro abitino molto geometric con queste mi piace molto e taglia del vestito a righe gialle nere e viola fucsia fucsia diciamo e arriva con quest'altro paio di scarpe che sono principalmente chi si ricorda la recensione di Vini Scratch sono essenzialmente gli stivali di Vini Scratch ricolorati di rosso e nero sulla punta cosa che boh mi dispiace un po' perché hanno anche sulla suola il cutie mark di Vini cioè potevano almeno cambiare cambiare scarpe cioè nel senso non riciclare quelle di Vini e semplicemente ricolorandole comunque non mi dispiacciono di questo colore quindi meh vabbè passiamo passiamo alla bambola che nonostante Sansa e Shimmer sia il mio personaggio preferito e quindi l'ho presa per questo motivo perché ho la bambola di Sansa e Shimmer del del primo film che infatti dopo volevo fare una piccola comparison un piccolo porca miseria non mi viene in italiano vabbè vedere la differenza tra le due bambole e quindi visto che avevano fatto questa nuova versione per di Sansa e Shimmer l'ho voluta prendere anche se ci sono certe cose che non mi piacciono di questa bambola avendola cioè adesso che ce l'ho fuori dalla scatola e principalmente perché boh il resto mi piace sono i capelli prima di tutto perché boh non sono di una grande qualità infatti dandole in una spazzolata ne ha persi tantissimi e e poi perché le hanno fatto laccandole queste due ciocche queste corna cioè questi ciuffi così che non hanno nel film prima di tutto secondo fanno un po' schifo sinceramente a me non piacciono pensavo di cercare di pettinarle ma è un po' impossibile con tutta la lacca che ci hanno messo sopra e poi ho paura di rovinarle i capelli più di quello che già sono quindi mi accontenterò di averla con queste boh antenne qui anche perché nel prototipo l'avevano fatto vedere avevano fatto dei capelli diversi aveva i ciuffi che erano molto gonfi cioè aveva i capelli molto belli aveva i capelli gonfi con questi due ciuffi che erano più corti del resto dei capelli però non avevano la lacca ed erano molto gonfi che le corniciavano il viso e stava molto bene io speravo infatti che la bambola finale avesse i capelli come quella nella promo piccia nella immagine del prototipo e invece poi gli hanno fatto sta robaccia why ma non ci facciamo domande senza shimmer ha le vrecchiettine da pony però non c'è nessuna ciocca dei capelli più lunga a simbolizzare la coda non si sa per quale strano motivo ma abbia fatto questa scelta ha un trucco viola sugli occhi ha un accenno del suo cutie mark sotto sotto questo occhio qui e ovviamente una piccola fiammella all'interno della pupilla ha questo rossetto viola scuro che boh le dà un tono un po' appunto roccheggiante direi poi ha questo top che mi sembra molto un top estivo comunque che appunto è smanicato e lascia nuda la schiena che è sexy vabbè sexy sunset shimmer è composto da tre colori fuzia arancione chiaro e giallo poi ha queste sottospecie di inizialmente pensavo fossero pantaloni ma poi ho capito che sono leggings che hanno questa hanno sempre la fiammata per ricordare i cutie mark di sunset shimmer e poi alla fine questi cuoricini infine anche questo non è una cosa che mi piace molto della bambola però vabbè ce ne facciamo una ragione ha questi sandali molto tamarri che come tacco hanno sempre una una forma a mo' di fiamma sempre per riprendere i cutie mark di sunset shimmer che nonostante non ne vada matta comunque nell'insieme con la bambola con con l'outfit della bambola trovo che ci stiano discretamente insomma non è che oh wow però vabbè nel complesso non sta malissimo una cosa da dire anche se vabbe non è che sia anche questa bambola perché vabbè mettiamoci una pietà sopra ma non ci si può fare niente anche questa bambola ha le maglie a paletta e... vabbè boh direi che possiamo passare un attimo al cadono te è caduto tut a fare un piccolo confronto ecco la parola evviva la parola ci siamo un piccolo confronto con la bambola di Sansa e Shimmer del primo film come potete vedere una mia impressione no si Sansa e Shimmer Rainbow Rocks è più alta non lo so se per quei tacazzi che ne hanno messo o anche per il fatto che la povera Sansa e Shimmer povera cara non aveva i piedi quindi è più alta è più slanciata direi che hanno anche due visi leggermente diversi l'occhio è diverso e ora non saprei dirvi boh a me sinceramente sembra che è diverso e i capelli e i capelli sono decisamente diversi oltretutto questi capelli sono sono bellissimi sono morbidissimi questi fanno schifo però mi piaceva un sacco il colore che qui invece avevano fatto questa divisione terrificante cioè no vabbè terrificante comunque avevano fatto questa divisione proprio netta rossi e gialli qui invece la base è tutta rossa a parte delle sfumature arancioni e poi ci sono leggermente delle ciocche gialle allora mi si sta scaricando la batteria e c'ho poco tempo sulla manchina foto è meraviglioso veramente meraviglioso eccoci qua tornati cercherò di essere il più veloce possibile perché voglio finire questa cavolo di recensione perché ho fame sto morendo di fame e poi non ho tempo in questi giorni tra master faccende varie feste di compleanno bla 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 allora dunque dove eravamo rimasti quindi direi che gli occhi sono leggermente diversi ah poi qui che noto è più un verde acqua e qui invece è un azzurro è molto più sull'azzurro vabbè le labbra come ho detto prima le hanno fatto un rossetto viola scuro invece qui c'ha le labbra rosse questo più che altro per il tema rock yeah ok e vabbè ovviamente la salsa e scimmere del primo film aveva la giocca di capelli più lunga che simboleggiava la coda aveva la fiammata sulla gamba e una gamba gialla sì è una cosa che ci siamo sempre domandati tutti che non ci siamo mai dati risposta e e poi vabbè non aveva i piedi cosa che siamo molto felici che l'asbro abbia scoperto i piedi e dunque la cosa diciamo a favore della vecchia senza scimmere che aveva le mani decenti aveva le mani aperte e aveva anche il gomito snodabile e niente oddio cos'altro si può dire boh niente i capelli di questa senza scimmere sono meravigliosi in confronto a questi sono anche morbidissimi e nonostante tutto l'abbia comprata un anno fa ha dei capelli ancora morbidi sembrando di cotone la qualità di questi capelli è veramente bassa dunque io direi che questo è tutto perché non ho veramente voglia né tempo di spogliarla e poi la voglio tenere con questo outfit e metterla sulla mia mensola così quindi mi spiace ve l'ho fatto vedere comunque a me piace con questo outfit e quindi le lo terrò e dunque 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 a me ripeto mi piace molto il personaggio di sunset shimmer e quindi volevo assolutamente prendere la nuova bambola di sunset shimmer che rispetto alla prima ha dei miglioramenti ma anche dei lati negativi come vi ho già detto la cosa principale che mi lascia un po' per pressa sono i suoi capelli ma io io adoro sunset shimmer quindi ci passo sopra e vabbè sono contenta di avere la bambola di sunset shimmer in ogni caso quindi niente prezzo boh non lo so magari lo farei pagare un po' meno di 25 euro non mi sembra che li vanga tutti esattamente insomma però vabbè d'altronde rispetto all'italia il prezzo era già veramente buono e quindi l'ho preso e quindi va bene così via non mi sembra che ci sia altro da dire ci vediamo prossimamente appena posto perché veramente sono piena di cose da fare per qualsiasi per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti e cercherò di rispondere bye